Primavera, 1877, è il periodo più lungo che abbia passato in un solo posto da quando ho lasciato la fattoria a 17 anni. Ci sono tante cose qui che non capirò mai. Non sono mai stato un frequentatore di chiese e quello che ho visto sui campi di battaglia mi ha spinto a interrogarmi sui disegni di Dio. Ma c'è indubbiamente qualcosa di spirituale in questo luogo. E sebbene possa rimanere eternamente oscuro per me, non posso che essere consapevole del suo potere. So che qui ho conosciuto il mio primo sonno tranquillo dopo tanti anni. Dovete prendere la palla. No, no, non me. Prendete la palla. Dovete prendere la palla. Quanti ti sono fissurali? Non mi davanti chiedi. Prendete il mio primo episodio. Voi dovete prendere la palla. E se facendo un po' più spaino. Io ti sono facendo un palla. 5. 6. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.